Sarò velocissimo, faccio recuperare un po' del tempo che ci manca. Secondo me è fondamentale, e riprendo quello che è stato detto prima, avere un fortissimo concetto della responsabilità individuale. Chiamarsi fuori non è possibile. Ognuno di noi deve pensare che quello che è l'azienda per cui lavora, la città in cui vive, il paese in cui vive, è in parte legato a come lui si comporta. E questo per me è una cosa assolutamente fondamentale. In linea di massima tendiamo sempre a scaricare sugli altri le responsabilità. Invece avere un fortissimo senso della responsabilità individuale credo che sia assolutamente chiave. Legato a questo c'è fare bene il proprio mestiere. Prima mi sembra che Alessandro Fusacchia dicesse che è rivoluzionario. Ne sono profondamente convinto. Cioè fare bene quello che sei chiamato a fare. In questo paese comincia a diventare rivoluzionario. Penso che sia assolutamente fondamentale. E poi, ultima cosa, e lo ha detto prima Ivan, il tema della legalità e del rispettare le regole, comprese quelle fiscali. In questo paese, se tutti pagassimo le tasse, imprenditori compresi, perché dobbiamo esserne ben coscienti, se tutti pagassimo le tasse ci sarebbe meno corruzione, perché la corruzione è fortemente legata all'evasione fiscale, ci sarebbe più rispetto delle regole. La legalità è un altro elemento fondamentale. Credo che questi elementi siano assolutamente base per far ripartire il paese, anche dal punto di vista economico. Grazie. Noi siamo in chiusura, però siccome erano previste domande del pubblico, se ce ne sono giusto due sintetiche e ben indirizzate? Ciao.